Sì grazie Che ha detto che non la vuole? Vuole la crema di caffè Due granite a dire no No due granite di caffè Due granite di caffè Ma che stai facendo? La balena sta facendo la balena Sta facendo la balena La balena Mi piace la balena Ti piace giocare con Tio Stefano? Ehi Flavia Ti piace giocare con Tio Stefano? Ehi 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 Mandatemi Mandatemi un bacio da lontano Ciao Ehi 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 Va bene Va bene così Basta Ehi